bella a tutti ragazzi sono terminal code e benvenuti in questa nuova serie che volevo iniziare su minecraft allora posso dirvi che siamo su un pacchetto moddato su un server moddato anzi server non vi dice nulla perché sto da solo ma non sarò sempre da solo il pacchetto di modd se vi interessa poi ve lo metterò il link in descrizione ho tutte le varie modd semmai vi metterò anche il pacchetto da scaricare allora iniziamo subito come potete vedere questa è la mia splendida casa non vi ho fatto vedere la parte iniziale perché è sempre di una noia mortale quella in cui si costruisce sono le 16 e 30 grazie questa qualcosa ci faremo qui dietro ci sarà tipo la sala macchinari questa sarà sarà dove ci metteremo altri macchinari e sopra c'è altri macchinari poi abbiamo il letto ora non posso dormire e varie merde le ceste e tutto allora volevo iniziare questo pack in cui vi spiego come costruire dei ma come cazzo si dice vi spiegherò come costruire i macchinari base e vi spiegherò quello che ho imparato io diciamo iniziamo subito craftando ci servirà questa robina qui ci servirà questo che si fa con tin copper tin 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 copper copper craft in cesto e pepe allora ci serve la tin 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 dove cazzo è la tin non mi dire che non c'è tin perché mi cazzo tin c'è abbiamo solo questa non ci credo vabbè vabbè ma che non c'èiva gua vendita un foglio di carta una crafting table una chest due tin e due copper era lì contrario perfetto olè il macchini sword vediamo un po' se è quello giusto piazziamolo qua si è lui questo va bene questo ha tante funzionalità però la cosa più utile è che se noi per esempio mettiamo le cose qua ce ne da quanti ne vogliamo e qui c'è una piccola cassa ok ora iniziamo proprio con i veri e propri attrezzi veri e propri strumenti che ci serviranno allora prima di tutto craftiamo un pulverizer come si graffa la flint il copper il pistone il redstone la reciprocione coil e il machine frame allora ci serve un po' di ci serve ci serve il copper vabbè ci serve il copper ci serve il ferro ci serve l'oro basta andiamo qui e facciamo uno di questi se non erro sbaglio olè ah è vero raga bisogna mettere la roba qui perché se no non ce li crafta poi un pistons stop the pistons spero che era così sicuramente al contrario se se non erro sbaglio ok eccolo qui pavone tre due perché c'è più roba c'è più legno figa minchia via poi abbiamo bisogno di non mi ricordo più figa minchia ah uno di quei cosi quindi bisogna prendere il vetro il vetro sta sopra rosso qui legno vai prendiamo questo per ore prendiamo pure della stonda che ci servirà dopo andiamo allora abbiamo detto quattro eh se quattro pezzi di vetro quattro pezzi di questo e l'oro nice allora ce ne servono due perché poi ci servirà anche per l'altro progetto allora andiamo subito uno un pistone qui il copper oh my god qui aspetta no il copper sotto e basta la flint uno di questi e la flint mmm buttano la porta oh buongiorno vuole un pezzo di carne prego aia io le offro pure da mangiare le miara a cazzare ok dopo questa cagata e ora torniamo qui la flint olè abbiamo un pulverizer via qui e cerchiamo questa che mod è la thermal thermal expansion redstone furnace no sbagliato redstone furnace il copper un altro di quello il machine frame il brick com'era ah questi si fanno ok bene frattempo facciamo un altro di questi dobbiamo andare a prendere la cosa la come si chiama via la clay ok dopo aver accolto la clay la cuociamo e ci mettiamo a cuoci ma va dai un po' di col 1,2,3,4 ok quindi a dove ce la teniamo andiamo sopra appoggiamo la melt non ci serve via la tin il copper ce l'abbiamo dentro l'alluminio gravel si può pure andare a cuoce questi qua li tengo perché qua vedrete la clay via questa via e basta ok per ora ne ho presi 9 mettiamoli qui due di questi e facciamo il pulverizer no il furnash la copper questo qui la machine mi 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 e questo no ah la redstone ovviamente olex redstone for nice 1,2 li andiamo a piazzare sotto allora allora per ora li mettiamo qua direi pulverizer redstone for nice allora vediamo come funzionano adesso non funziona perché ovviamente non c'è la corrente e niente ragazzi per questa puntata del nostro ok è tutto ci vediamo la prossima rimetteremo in funzione e vi spiegherò come funzionano bella Grazie a tutti.